Enrico Papi cosa combini? E si ragazzi perché terminati gli impegni con la pupa e il secchione Enrico Papi si è concesso un po' di meritato relax a forma intera in dolce compagnia come vediamo da queste immagini ma lei non è la moglie Raffaella Schifino bensì il settimanale chi lo ha infatti paparazzato tra le acque delle Baleari avvigliato alla 24enne Claudia Motta la ragazza è stata a Miss Italia nel 2021 e l'anno scorso se ben ricordate è una fragata all'isola dei famosi dove Papi era anche opinionista. Solo un anno fa Enrico e la moglie Raffaella avevano festeggiato le nozze d'argento dal loro matrimonio sono nati due figli Rebecca 23 anni Jacopo 16 e finora la coppia non era mai finita nel mirino dei paparazzi. Ora però il conduttore è stato pizzicato a forma intera tra le braccia della giovane Claudia Motta che invece non è nuova al mondo del gossip. La modella infatti vanta tra i suoi ex lo chef televisivo di Simone Ruggiati che l'aveva difesa a spada tratta dagli haters quando aveva abbandonata l'isola. Pochi giorni dopo però Claudia aveva annunciato la fine della sua relazione è inevitabile quindi ora pensare che forse c'entrasse qualcosa proprio il suo incontro con Papi e chissà se la moglie Raffaella è a conoscenza di questa relazione che pare sembra essere extra coniugale. Vediamo nei dettagli che cosa accadrà nei prossimi giorni io nel frattempo vi invito a iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e se vi va lasciatemi un like di supporto. Ciao e alla prossima!